L'incendio nell'ex palazzina del Calcite è stata una ferita per la città di Arezzo. La commissione d'inchiesta della ASL Toscana Sud-Est ha adesso concluso il suo lavoro e il direttore generale Antonio Durzo ha deciso di presentare alla Procura della Repubblica un esposto su quanto accaduto la sera del 16 aprile. La palazzina Calcite, oggi di proprietà della ASL in seguito all'emergenza coronavirus, ospita attualmente la sala angiografica e gli ambulatori di oncologia, senologia ed ematologia. Ho presentato stamattina un esposto alla Procura della Repubblica sull'incendio che la sera del 16 aprile ha interessato il piano interrato della palazzina Calcite nell'area del San Donato che ospitava una delle due sale angiografiche. All'esposto ho allegato la relazione predisposta dalla commissione d'inchiesta che ho nominato quella sera stessa per accertare le cause e le circostanze del fatto. Il documento si aggiunge alle registrazioni delle telecamere che sorvegliano l'area e che erano già state consegnate alla squadra mobile nel corso delle indagini. Immagini, come si legge nell'esposto, da cui potrebbero emergere elementi utili alle indagini.